Buongiorno a tutti i video ascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il grande piacere di presentarvi un interessantissimo romanzo storico. Si intitola Ottone il primo dei Visconti di Alex Calvi e Livio Gambarini appena pubblicato dall'edizione PM e noi abbiamo il piacere di avere con noi i due autori e io quindi come mia abitudine non perdo altro tempo e darei subito la parola a Livio Gambarini. Prego Livio. Grazie mille Maurizio, un saluto a tutti gli ascoltatori, follower di Italia Medievale. Sono molto contento di essere qui. Penso che anche tu Alex lo sia. Assolutamente. Grazie per questa bella opportunità. Siamo venuti per parlarvi, per parlare agli appassionati di narrativa storica, agli appassionati di Medioevo, di questo fantastico scorcio, di questo brandello di secoli del nostro passato che così tanto ha dato forma al nostro presente e lo vediamo sia nelle vestigia architettoniche maestose nei centri storici delle nostre città ma anche nei nostri modi di pensare, nelle parole che utilizziamo, in tante abitudini di cui non ci accorgiamo nemmeno più ma che in realtà sono proprio le fondamenta del nostro modo di essere e di vivere. Io e Alex con questo romanzo, con Ottone il primo dei Visconti, abbiamo deciso di portarvi in una delle fasi probabilmente più affascinanti di questo lungo scorcio di secoli ma anche una di quelle meno conosciute al grande pubblico. Stiamo parlando del basso Medioevo e nello specifico del XIII secolo. Quindi l'epoca è quella della, ovviamente, della lotta fra Guelfi e Ghibellini ma soprattutto siamo nell'epoca dei grandi intrighi ecclesiastici, della continua lotta fra il papato e l'impero, della lotta per le investiture, ci sono un sacco di cose che stanno accadendo, qui e là nei comuni dell'Italia settentrionale stanno iniziando a comparire i primi impulsi di signoria, le prime protosignorie. Stanno iniziando a comparire delle famiglie particolarmente potenti, non di rado anche particolarmente arroganti e che iniziano proprio a contendersi l'una con l'altra e il potere all'interno delle varie città oppure degli appezzamenti di territorio con tutte le ricchezze che possono contenere. In questa specifica epoca pochi ricordano, pochi sanno che all'interno dello scacchiere politico europeo, non soltanto italiano, la città di Milano era sia una delle più popolose ma anche una delle più ricche e quindi particolarmente golosa, particolarmente importante. Ce ne dà una bellissima ricostruzione Bonvesin della Riva con il De Magnalibus Civitate Mediolani. In questa città, dopo l'esperienza comunale, ecco che una famiglia in particolare emerge al potere, è la famiglia dei della torre. Questi nobili che erano partiti come dei portavoce del popolo, una volta raggiunto il potere, iniziano ovviamente a prenderci gusto e a decidere di tenerselo e di tenerlo proprio in pianta stabile. Questo potere della famiglia della torre che inizia a consolidarsi ovviamente non è visto di buon occhio da tutti e in particolare c'è qualcuno che sta iniziando a preoccuparsi del fatto che questa famiglia che già sta crescendo in potere, in spocchia anche, stia mettendo gli occhi non più soltanto sulle istituzioni civiche, civili della città di Milano ma anche su quelle ecclesiastiche. Sì perché l'arcidiocesi che faceva capo a Milano è una delle, l'arcivescovato di Milano è uno dei più ricchi di tutta la cristianità, forse addirittura il più ricco di tutti insieme a Roma. E se questa famiglia riuscisse a insediare sul soglio arcivescovile della città un proprio esponente, allora ecco che l'insieme del potere civile e di quello ecclesiastico su un'area così ricca, così potente, così importante come quella milanese potrebbe sancire l'inizio di una nuova potenza pericolosa per tutti quanti i vicini dell'area europea. E tra quelli, tra i più lungimiranti ad accorgersi in anticipo di problemi di questo tipo ci sono ovviamente gli ecclesiastici, alcuni più lungimiranti di altri ed ecco che a un certo punto il nostro romanzo in sostanza comincia con lo scattare del piano di uno di questi ecclesiastici che insedia preventivamente, prima che la famiglia della torre possa mettere un proprio candidato nella posizione importantissima di arcivescovo di Milano, anticipa la mossa mettendo un proprio candidato. Questo candidato è Ottone Visconti, è questo personaggio che è il nostro protagonista e che da, diciamo, pedina ben consapevole dei giochi di potere di cui fa parte, giochi di potere di cui ha poco a che fare la fede, inizierà ad avere un percorso tutto diverso. Alex ci racconti tu chi era questo Ottone? Ottone è un personaggio che se vogliamo andare a leggere nelle cronache è un personaggio particolare, sicuramente dotato di un grande desiderio di arrivare e di fare carriera e quello che emerge è probabilmente un personaggio non completamente pulito. Ovviamente noi nel nostro libro non potevamo avere un personaggio che fosse completamente antipatico, dovevamo per forza dargli anche dei connotati positivi. Quindi pur rimanendo all'interno di quello che è il contesto storico che è stato perfettamente ricostruito, perché tutto quello che avviene nel libro, a parte qualche piccolissima concessione che ci siamo dati per romanzare qualche evento, in realtà è tutto fermamente reale, è tutto basato su dati reali, su cronache del tempo o su informazioni comunque storicamente attendibili. All'interno di questo contesto ovviamente abbiamo dovuto inserire i nostri personaggi e in particolare Ottone. Quindi Ottone che personaggio è? Nel libro. Nel libro è un personaggio che inizialmente è un giovane pieno di grandi ideali che vuole fare del bene. Lui è, potremmo definire, proprio un puro nel cuore e nell'animo. Ma succede qualche cosa. Incontra una persona in particolare, di cui poi ci parlerà Livio nello specifico, che poco a poco lo fa cambiare. Da un certo punto di vista lo fa anche maturare, perché è quella che inizialmente è un'ingenuità, un pensare che tutto possa essere risolto semplicemente con i grandi ideali. Essendo dalla parte del giusto, poco a poco evolve nel rendersi conto che il mondo non è soltanto bianco o nero e non è che soltanto perché uno è dalla parte del giusto automaticamente otterrà ragione e vincerà. Dall'altra parte però comincia anche un percorso che sembra quasi farlo degradare. Cioè i suoi grandi ideali cominciano a essere messi in secondo piano e cominciano anche una serie di dubbi, di grandi quesiti che gli roderanno un po' l'anima, potremmo definire, potremmo dire. E noi nel libro proprio seguiamo anche questo percorso. Non seguiamo soltanto le vicende di battaglie, piuttosto che le vicende amorose dei personaggi, che sicuramente sono interessanti, ma seguiamo anche l'evolversi e l'arco di trasformazione del nostro personaggio, il modo in cui evolve dentro di sé, fino a qualche cosa. Adesso non facciamo spoiler, decisamente no. Ma succederà qualche cosa che lo farà riflettere su tutto quello che ha fatto, su quello che era diventato fino a quel momento e gli farà scattare qualche cosa in testa per cambiare e diventare, si spera, una persona migliore. Ok, ma prima di addentrarci sul percorso di cambiamento in positivo di ottone e di chi lo abbia causato, a me piace sempre ricordare invece la parte più, diciamo, fosca, la parte più di intrigo, la parte più, che probabilmente è anche la più affascinante di un'epoca così lontana dalla nostra, eppure in certi suoi echi, in certi suoi tratti ancora molto presente e mai trascorsa del tutto. E un personaggio in particolare all'interno del nostro romanzo incarna questo lato oscuro del potere in particolar modo. Ed è un personaggio che appartiene alle gerarchie ecclesiastiche, è un principe della chiesa, quindi un personaggio dotato di una autorità assolutamente fuori dal comune, nel suo contesto, un vero e proprio, un uomo appunto dalla vastissima influenza, e dagli scrupoli invece praticamente inesistenti. Questo personaggio, che è un personaggio ovviamente storicamente esistito e su cui ci siamo documentati prima di descriverlo, prima di tratteggiarlo anche nella sua, diciamo, caratterizzazione sia fisica ma anche e soprattutto psicologica, è il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Chi è questo personaggio? Questo personaggio è un po' all'interno del romanzo, è molto presente, soprattutto nella prima parte, ed è un po' il mentore del nostro protagonista Ottone. Se Ottone è, diciamo, viene mostrato nel corso del romanzo anche nella sua crescita, come diceva Alex poco fa, cioè nel suo passaggio da una fase di innocenza, di ingenuità adolescenziale, a una fase invece di presa di coscienza sulla realtà del mondo, del potere e di cosa realmente faccia accadere le cose sotto questo cielo, ecco che è stato questo passaggio, questo processo di maturazione è stato causato, innescato proprio da questo cardinale. Ottaviano degli Ubaldini anche storicamente è una figura estremamente affascinante. Poche volte capita di imbattersi in persone quando si studia la storia, quando lo si cerca di fare con una serietà filologica, uno scrupolo che anche quando magari non si scrive saggistica, ma come nel nostro caso si voglia fare buona narrativa e però la si voglia fare con l'ottica della divulgazione, quindi comunque con un occhio di riguardo per la verità storica e per non fare torti eccessivi a nessuno, neanche ai cattivi per modo di dire della storia, ecco, solitamente quando si vanno a indagare delle figure storiche reali è giustamente sempre una commistione di bianco e di nero. È molto difficile imbattersi in personaggi che emergano come unicamente buoni o personaggi che emergano come smaccatamente e unicamente malvagi. Ecco, di questa seconda categoria, estremamente rara, fa parte a pieno titolo il cardinal Ottaviano degli Ubaldini, nel senso che è veramente molto facile far convincersi che si tratti di una persona realmente malvagia per tutte le cose che fece nella sua vita. Lui era proprio completamente amorale, del tutto ateo probabilmente, o questo quantomeno è ciò di cui era convinto Dante, che nell'inferno lo colloca nella stessa arca che abbrustolisce Farinata degli Uberti e Cavalcante dei Cavalcanti, nella quale, tra l'altro, possiamo intuire che questo cardinale abbia una posizione di prestigio e di rilievo dal momento che per identificarlo, lo stesso Dante, non deve, non ha neanche bisogno di nominarlo direttamente e ancora dopo più di due decenni, forse anche tre decenni, se non ricordo esattamente, dalla morte di questo personaggio di cui stiamo parlando, ancora Dante può semplicemente identificarlo chiamandolo il cardinale. Se voi prendete la Divina Commedia e andate a cercarvi quel canto dell'inferno, non dice che cardinale. I cardinali ce ne sono sempre tanti, eppure bastava quell'appellativo per identificare al lettore contemporaneo di Dante, senza nessuna possibilità di fraintendimento, il cardinale Ottaviano degli Ubaldini. Abbiamo quindi a che fare con un personaggio decisamente iconico, decisamente affascinante nella sua oscurità, nelle ombre che proietta, ma non perché lui sia luminoso, anzi in realtà è una vera e propria eminenza grigia della sua epoca. È molto raro che si esponga in prima persona, il suo modus operandi era sempre quello di servirsi di intermediari, di turlupinare persone guadagnandosi la loro fiducia, spingendoli a tradire il prossimo per poi tradirli a propria volta, utilizzando come leva il tradimento già avvenuto da parte loro. Quindi era un personaggio realmente diabolico, realmente machiavelico. Stiamo ovviamente semplificando, però questa qui è effettivamente l'impressione che ci si ricava studiando questo personaggio. Questo personaggio ovviamente su un, tra l'altro diventato cardinale giovanissimo, quindi possiamo immaginare il, che d'accordo veniva da una potente famiglia di provenienza, però non era automatico, possiamo proprio immaginare che avesse un particolare talento per l'intrigo politico. E noi ci siamo proprio anche divertiti a immaginare la relazione fra Ubaldini e questo giovane brillante, ma un po' troppo idealista, un po' troppo ingenuo, Ottone Visconti, in realtà praticamente coetanei fra di loro, ma con Ubaldini subito assurdo a cariche ecclesiastiche importantissime, e Ottone invece ancora un po' incastrato in questa figura subalterna che lui aveva all'epoca. Una subalternità che peraltro abbiamo scelto di accentuare, perché in realtà Ottone rispetto al momento in cui avviene il loro incontro, nella realtà storica era già un pochino più avanti nella gerarchia ecclesiastica, però comunque era ordini di grandezza sotto Ubaldini. Nel momento del loro incontro ecco che naturalmente per un giovane come Ottone, che stava cercando il proprio posto nel mondo e peraltro accade questo incontro in un momento di particolare turbamento di Ottone, in cui Ottone stesso sta pensando di cambiare completamente vita e di prendere una strada radicalmente diversa da quella della chiesa, ecco che avviene questo incontro e come conseguenza di questo incontro Ottone subisce il fascino di questo personaggio, che ha una logica estremamente ficcante, ha un modo di parlare molto carismatico e che quindi lo attira all'interno della propria ragnatela. E da quel momento in poi Ottone diventa sia l'assistente di questo cardinale degli Ubaldini, ma sia anche la pedina, ma in realtà è una pedina consapevole di esserlo perché è una pedina a cui il cardinale vuole assegnare un futuro estremamente brillante, quindi un ruolo centrale nei suoi piani e ne diventa quindi anche soprattutto forse il complice, il complice di tutte queste malefatte. Ed ecco che però dentro Ottone questo è uno dei due grandi poli di oscillazione. Ubaldini nella vita di Ottone e Visconti è proprio una delle due poli che lo calamitano e che lo trasportano e infatti è grazie alle macchinazioni di Ubaldini se Ottone e Visconti, che proviene da una famiglia tutto sommato secondaria della nobiltà padana, riesce a rivestire il ruolo di arcivescovo di Milano per nomina papale, quindi niente popò di meno. E quindi da un lato c'è questa imperiosa influenza nella vita e sull'anima di Ottone, ma dall'altro c'è anche un'altra influenza, un'altra persona estremamente importante per la sua vita e che fa un po' da contraltare a questo cardinale e questo personaggio storico realmente esistito e dai tratti così foschi. Questo personaggio è Agnese e questo invece è proprio farina del nostro sacco. Raccontaci chi è Agnese, Alex? Se Ubaldini potremmo definirlo come il diavoletto che sta sulla spalla sinistra di Ottone, sulla spalla destra invece ci sta l'angioletto e il nostro angioletto in questo caso è Agnese. Agnese è un personaggio molto forte, molto determinato che per questo motivo potremmo anche trovare poco coerente per il periodo storico. Le donne infatti in quel periodo non è che avessero dei ruoli particolarmente prominenti e purtroppo nella società non erano neanche molti considerate. Creare un personaggio, inserire un personaggio che fosse puramente coerente con il periodo storico sicuramente avrebbe portato molti lettori a farsi qualche domanda e secondo noi anche a non apprezzarlo fino in fondo. Quindi abbiamo creato invece un personaggio che fosse da questo punto di vista più moderno, più indipendente potremmo definirlo. è un personaggio che ha il coraggio delle proprie azioni e anche il coraggio di affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Questa caratteristica di Agnese potrebbe quindi farlo sembrare un personaggio completamente inventato. In realtà noi lo abbiamo basato su un fatto storico che è presente in molte delle cronache del tempo. Nel 1273 Ottone si reca a Piacenza per incontrare Gregorio X che era il papa appena nominato in quel periodo. Cosa succede? A poco dopo che Gregorio X si allontana da Piacenza per proseguire nel suo viaggio che lo porterà verso Dione e poi il concilio di Dione che comincerà di lì a poco Ottone sfugge a un attentato da parte dei della Torre. E come sfugge? Grazie all'avviso di una locandiera. Ora come facesse una locandiera di Piacenza a sapere di un attentato ordito da dei nobili milanesi non è dato saperlo. Però le cronache ce lo riportano anche se sembra un fatto curioso, un fatto magari che potrebbe sembrare inventato da noi. In realtà è proprio uno di quei fatti in cui ci siamo imbattuti durante le fasi di ricerca e che era talmente curioso, talmente particolare che abbiamo deciso di inserirlo. Proprio basandoci sul personaggio di questa locandiera abbiamo deciso quindi di costruire quasi il personaggio a ritroso, un legame fortissimo con Ottone che affondasse fino nell'infanzia di Ottone stesso. Complice anche il fatto che dell'infanzia di Ottone per nostra fortuna potremmo dire non si sa praticamente niente. E quindi abbiamo avuto buon gioco a inventare qualche cosa da questo punto di vista e inserire quindi il personaggio di Agnese fin dall'inizio. E creando anche a Ottone un... anche lì abbiamo giocato un pochino sul è vero, non è vero. Secondo alcune cronache c'era una parentela tra lui e Tedaldo Visconti, appunto poi Papa Gregorio X. Secondo altri non c'era nessuna parentela, si trattava di un ramo di Visconti che nulla aveva a che fare con il ramo milanese a cui apparteneva Ottone. Noi abbiamo deciso di proseguire sulla strada che li vedeva parenti, seppur magari alla lontana, cugini e poi anche di farli studiare insieme proprio di appiacenza. Questo ci ha permesso appunto di poi creare un background al nostro Ottone e alla nostra Agnese da portare avanti un rapporto che prosegue nel tempo anche se le regole non lo permettevano e con tutte poi ovviamente le dovute conseguenze. Anche qui non possiamo dire troppo perché... Precisamente. Che poi il personaggio di Agnese, qui ci siamo in ogni caso affezionati moltissimo nella fase di progettazione e poi quella di stesura, è un personaggio che diventa cardine non solo nella vita di Ottone ma anche in altre vicende che scoprirete leggendo il libro stesso. Però abbiamo accennato a un attentato che Ottone subisce a Piacenza e non abbiamo diciamo ancora stretto troppo il campo visivo sui mandanti di questo attentato. Perché chi potrebbe avere interesse a sbarazzarsi di Ottone Visconti? Arcivescovo, pretendente alla cattedra ricchissima di Sant'Ambrogio, quindi il trono arcivescovile di Milano con tutte le ricchezze che adesso erano associate, che erano ingenti. E quindi chi potrebbe avere interesse a far sparire questo personaggio così scomodo come era Ottone Visconti? Naturalmente i già menzionati della torre. Stiamo parlando di loro, dei signori de facto di Milano, nell'epoca di cui stiamo trattando. La famiglia che dopo essere arrivata agli onori e alla gloria a Milano e alla rappresentatività dei vari organi di credenza, dei vari organi civici di governo, avevano proprio iniziato a agire come dei veri e propri tiranni. E una personalità in particolare all'interno di questa casata, che era molto larga, contava molti membri, un personaggio in particolare da un certo punto in poi assume le caratteristiche un po' dell'arci nemico di Ottone Visconti, del nostro protagonista. Questo personaggio è Napoleone della Torre. Tra l'altro io ho scoperto che il nome Napoleone esisteva già nel Medioevo, cosa che non sapevo, pensavo fosse più recente. E invece Napoleone è già attestato nel 200 italiano. Questo Napoleone chi era? Era il discendente in linea diretta dei fondatori della dinastia che tra l'altro facevano risalire il loro sangue ai nobili di Borgogna, quindi ai reali di Francia, di epoca di Carlo Magno. Comunque sia questo Napoleone è il personaggio che quando lo scontro fra la famiglia della Torre e gli alleati, i nobili che Ottone raduna sotto di sé per fare la guerra a questa famiglia che lo vuole tenere lontano dall'insediarsi nella sua città, quando appunto questo scontro raggiunge il suo apice, è proprio Napoleone della Torre alla guida della casata. E Napoleone della Torre dopo diversi tentativi di, dopo in realtà diverse battaglie che fecero la famiglia della Torre e appunto le forze armate radunate attorno al casus belli che Ottone poteva rivendicare contro i governatori di Milano, ecco che a un certo punto Napo decide di ricorrere proprio a mezzi diversi per far tacere questo rivale una volta per tutte, i mezzi ovviamente dell'assassinio. Questi sono diciamo in realtà fra le poche informazioni di cui noi disponiamo a proposito di quelli che sono senza alcun dubbio gli antagonisti principali del nostro romanzo che sono appunto Napoleone e la famiglia della Torre attorno a lui. Un altro dei fatti che conosciamo, dei pochi fatti che conosciamo sulla vita di questo personaggio è la selva, è proprio il caso di dirlo, di condanne capitali, di decapitazioni che insanguinarono la neve della città meneghina di Milano in un momento, in una delle pagine più cruente veramente della storia di Milano durante la quale Napoleone per operare una vendetta andò a rastrellare i responsabili di un atto di lutto che aveva appena subito e per vendicarsi fece una vera e propria strage e uccise decine e decine di persone dopo averle trascinate sulla pubblica piazza e fatte decapitare di fronte alla folla. Insomma, non conoscendo molto altro su questo personaggio, a parte il fatto che faceva uso di assassini e che aveva la decapitazione facile, insomma, abbiamo avuto un gioco abbastanza semplice a ricostruire il resto della sua personalità. Però abbiamo anche scelto di introdurre in questa narrazione un personaggio che in un certo senso costituisse anche per Napoleone una sorta di polo di attrazione, così come per Ottone c'era stato un personaggio che costituiva una sorta di polo opposto rispetto a Ubaldini e nel caso appunto ovviamente si trattava di una donna, di Agnese, di questo personaggio che tra l'altro è forse il personaggio più forte dell'intero libro, si potrebbe dire, più coerente con se stesso, più eroico in un certo senso. Invece Napoleone non ha avuto la stessa fortuna. Al suo fianco infatti aveva Margherita del Balzo. Non so pronunciarlo correttamente, Marguerite Bo, quindi facciamo finta che non ci abbia neanche provato. Di questo personaggio non sappiamo assolutamente niente, però possiamo ricostruire forse, noi abbiamo, ci siamo sforzati di fare questo sforzo, questa astrazione, di immaginare che tipo di donna, di compagna potesse essere per un uomo come Napoleone e quindi che tipo anche di influenza avrebbe potuto spingere un uomo come Napoleone alle efferatezze che la storia ci ha tramandato di lui. E quindi la coppia costituita da Margherita del Balzo e da Napoleone della Torre è proprio il gruppo, il nucleo antagonistico rispetto alle trame che vedono coinvolti Ottone. In realtà, certo, Napoleone era sicuramente un sanguinario, un cruento, però non bisogna pensare che in realtà Ottone fosse poi molto migliore di lui, probabilmente su un altro grado, però la storia ci riporta parecchie cose che non ci porterebbero assolutamente Ottone a fare una bella figura oggi. Però a questo punto si aprono una serie di quesiti. Come si fa a decidere come tratteggiare un personaggio storico? Questa è una cosa secondo me molto interessante da, diciamo, sbirciare, da scoprire per chi non abbia mai messo le mani all'interno della documentazione necessaria per la scrittura di un romanzo storico e che è una di quelle parti più, diciamo, più complesse da gestire, una delle parti più difficili anche da far capire ai lettori tutte le difficoltà che stanno dietro la superficie della storia esatta, tra virgolette, così come viene presentata sui saggi oppure nei film e nei romanzi storici e che ha invece a che fare con la documentazione e con le difficoltà inerenti. All'interno di questo, della scrittura di Ottone Visconti, la parte di documentazione, il grosso, è stato effettuato da Alex. Quindi ti cedo volentieri la parola a riguardo. E che è stato un lavoro davvero grosso. perché allora se è vero, come è vero, come viene spesso ripetuto, che la storia la raccontano i vincitori, noi abbiamo effettivamente molte cronache del periodo che sono raccontate proprio dal punto di vista dei Visconti. Una delle cronache più importanti su cui ci siamo basati, che abbiamo studiato per andare a ricostruire gli eventi, è quella di Stefanardo da Vimercate, che però è spudoratamente a favore di Ottone Visconti e della famiglia Visconti, in una maniera quasi imbarazzante in certi punti. È chiaro che ci sono anche altre fonti. Il problema è che spesso e volentieri queste fonti risultano anche incoerenti tra di loro. Un problema sicuramente è dovuto al fatto che in quel periodo anche da zona a zona, da regione a regione, si utilizzavano calendari diversi. Quindi quando poi si è cercato successivamente di uniformare tutti questi calendari, a volte certe date non coincidevano più. Vi faccio un esempio proprio al volo, sempre riparlando dell'attentato di Piacenza del 1273, nelle cronache noi leggiamo che in questo attentato sfuggono agli assassini mandati dai Della Torre Ottone Visconti e il suo mentore Ottaviano degli Ubaldini, il cardinale. C'è un problema però. Storicamente, secondo tutti i libri di storia, Ottaviano degli Ubaldini muore nel 1272, quindi un anno prima. Come faceva a essere lì? Probabilmente appunto c'è stato qualche misunderstanding a livello di date e qualcosa è andato storto. Noi Ubaldini lo abbiamo messo perché effettivamente tornava utile, era interessantissimo che fosse presente in quell'occasione e ci permetteva di sviluppare tutta una serie di sottotrame che lì potevano avere una sorta di conclusione. però effettivamente di volta in volta abbiamo avuto casi diversi, anche per quanto riguarda Margherita del Balzo e lo stesso Napo della Torre e i figli di Napo, figlio o figli, punto di domanda, di Napo della Torre. Ci sono una serie di questioni che sembrano non tornare. Per esempio, in alcune si parla di un figlio solo di Napo della Torre, chiamato Corrado della Torre, e viene descritto come un Marcantonio di due metri, praticamente un'armadia dueante, che già a 13 anni andava in battaglia e combatteva con il valore di un cavaliere di ventura. Secondo altri, lo stesso Corrado della Torre era soprannominato Mosca, perché a causa di una malattia che aveva avuta in teneretà non si è mai sviluppato completamente, era sempre rimasto piccolino, gracilino, con anche una voce un po' non completamente formata. Ognuno aveva le sue idee. La stessa Margherita viene data di volta in volta come sposa di Napo della Torre in periodi storici molto diversi. Ci sono, secondo alcune croniche, addirittura ci sono vent'anni di differenza tra l'uno e l'altro, piuttosto che Corrado, che sarebbe proprio figlio di Napo e di Margherita, che in alcune risulta nascere 12 anni prima del loro matrimonio e in realtà loro si conoscono proprio in occasione del matrimonio, quindi non poteva neanche essere il frutto di una tresca precedente. Insomma, ci sono tutta una serie di, diciamo, di incoerenze proprio, di, non potremmo definirli errori, perché ognuno raccontava nelle cronache del tempo quello che riteneva essere corretto, essere giusto. Sta a noi cercare di far tornare il tutto e di volta in volta cercare di essere il più fedeli possibili a quella che è la storia ufficiale e laddove c'è qualche elemento che ritorna e su cui anche la storia ufficiale non ha dato una versione ufficiale definitiva, anche lì invece si apre un po' più il campo alle speculazioni e anche un po' più il campo al poter romanzare e poter dare la nostra versione. Ovviamente cercando di essere il più coerenti possibili invece all'interno della nostra narrazione, perché questo è importante, insomma. Certo, e per quanto riguarda la coerenza interna che per quanto concerne la documentazione, quindi le fonti, è un disastro assoluto, perché appunto è un colabrodo vero e proprio di versioni che sono di fatto inconciliabili e in alcuni casi magari c'è una prevalenza di una versione e poi c'è un singolo testimone discordante e allora è abbastanza facile propendere per una delle due, ma sono casi rari. Il più delle volte è tutto così incasinato che comunque non c'è modo di prendere una decisione senza che venga fatta una qualche rinuncia o che comunque ci sia una sicurezza di fondo che le cose vadano come effettivamente sono indicate. Questo rende, ha reso la vicenda di Ottone, la ricostruzione dei fatti che abbiamo narrato nel nostro romanzo, un'impresa, però c'è anche un'altra impresa che parallelamente ci ha visti impegnati nel corso della preparazione di questo romanzo e della confezione nella sua forma definitiva, così come è uscito dai torchi, dai tipi di PM edizioni, ovvero un ordine di difficoltà di natura diacronica, se vogliamo, nel senso che a differenza che altre vicende magari più concentrate in un lasso di tempo breve nel loro sviluppo, la vicenda di Ottone è invece sparpagliata, proprio frammentata su un arco di anni veramente molto lungo, lunghissimo, un arco di diversi decenni addirittura, e per concentrarla all'interno di un romanzo che non volesse espandersi fino a mille pagine o 1500 pagine, richiedeva un certo livello di sfida, richiedeva prendere delle decisioni e trovare dei modi per concentrare il più possibile questa vicenda così lunga, così ampia, all'interno di un formato di pagine limitato. La scelta che abbiamo intrapreso in questo senso è stata una scelta legata a una particolare strategia di intreccio. La strategia di intreccio che abbiamo vagliato e che poi ho apportato all'interno della scansione dei capitoli ha a che fare con la gestione di molteplici piani temporali diversi e l'impiego di diversi punti di vista. Questo ci ha permesso di orchestrare in una singola narrazione, come in un'orchestra appunto, tanti diversi strumenti musicali, le varie voci dei personaggi e in modo che componessero una sinfonia unitaria. E per fare questo ci siamo spostati molto sia nello spazio sia nel tempo. Ecco che infatti abbiamo una sorta di linea temporale principale, quella che comincia con l'incoronazione di Ottone ad arcivescovo di Milano per opera del Papa, interrotta bruscamente dai della torre che vogliono interromperla, perché vogliono intromettersi, e da lì in poi comincia, diciamo, la parte relativa al dissidio, allo scontro fra Ottone Visconti e la famiglia della torre per il possesso del trono di Milano. Ma alternato a un capitolo e l'altro ci sono moltissimi in realtà inserti di momenti precedenti nel tempo. Ci sono quindi i flashback che mostrano il noviziato di Ottone, quindi in età giovanissima, quando era ancora uno scarezza collo idealista. Poi ci sono gli spezzoni che mostrano i suoi primi incontri con Agnese, questa donna straordinaria che gli cambierà la vita. E con Ubaldini, quest'uomo altrettanto straordinario, che gliela cambierà in un modo tutto diverso. E poi ci sono momenti, ci sono cose intermedie, ci sono sprazzi di vita quotidiana nella Italia settentrionale del XIII secolo. E tutte queste cose si intervallano ai vari momenti, ai vari skip temporali, ai vari momenti in cui si sviluppa, si dipana l'avventura bellica politica di Ottone Visconti, arcivescovo. E quindi in realtà è come l'accostamento di tante tessere diverse, di colori diversi, di un mosaico che nel suo insieme compone la raffigurazione della storia di Ottone Visconti. O quantomeno questo è stato il nostro intento. E per fare questo ci siamo proprio avvalsi di una strategia, di una strategia di intreccio che puntasse proprio sulla plurivocità e su una scansione temporale molto articolata. Abbiamo però fatto del nostro meglio per creare all'interno, cioè per disporre questi elementi, questi numerosi elementi, in modo che non fossero eccessivamente difficili da interpretare, ma che anzi fossero tutti quanti uniti, ciascuno, al tassello precedente e a quello successivo attraverso una sorta di incastonamento, una sorta di concatenazione di domande e di risposte, sempre sequenziali, quindi che potessero trainare in avanti il libro. La nostra speranza è ovviamente in questo modo di essere riusciti a rendere, da un lato, la complessità di un'epoca e di una vicenda complessa da narrare, perché è molto lunga e molto articolata, senza però rinunciare alla piacevolezza di una fruizione lineare e continua e avvincente, perché secondo noi appunto un buon romanzo storico è intrinsecamente e per forza composto da due anime, una di divulgazione, ma una anche di fiction, di intrattenimento, e quindi un romanzo che sia troppo carente da una delle due parti, a nostro avviso non è un romanzo storico degno di questo nome, noi abbiamo fatto del nostro meglio per riuscire a conciliare queste due anime, perché alla fine è questa la meraviglia del romanzo storico. Bene, io cosa posso dire più di così? Posso solo dire che bisogna comprarlo, questo romanzo storico, perché non parliamo dei milanesi che dovrebbero scoprire la loro storia, soprattutto nel periodo di queste lotte tra Toriani e Visconti, che poi porteranno i Visconti a vincere e a diventare i signori della città. Il libro si intitola infatti Ottone, il primo dei Visconti, di Alex Calvi e Livio Gambarini, sono 480 pagine per soli, 18,50 euro, appena pubblicato da PM Editori, e il nostro consiglio è quello veramente di immergervi nella lettura, perché l'argomento lo merita e ancora nessuno aveva pensato di realizzare un romanzo storico su un personaggio come Ottone e Visconti. Io ringrazio tantissimo Alex Calvi e Livio Gambarini di essere stati con noi, mi ricordo di seguire sempre il nostro sito www.italiamedievale.org dove troverete oltre a questa video presentazione anche tutte quelle che abbiamo realizzato in questo lunghissimo e sfinente anno di pandemia, sperando di uscire nel prima possibile, sperando anche di poter tornare presto in presenza a fare le nostre belle presentazioni e sicuramente appena sarà possibile richiameremo Alex e Livio, perché a Milano non possiamo presentare fisicamente questo interessantissimo romanzo. Quindi grazie ancora a tutti e due. Grazie a te Maurizio, grazie a Italia Medievale, grazie a voi che avete ascoltato la nostra presentazione. Speriamo che Ottone e il primo dei Visconti vi piaccia. Se è così lasciateci una recensione, faccio una piccola richiesta, una piccola preghiera, una piccola recensione dove volete, se avete gruppi di lettura o su Amazon, se l'avete preso lì o su Goodreads, fateci sapere cosa ne pensate, perché noi l'impegno ce l'abbiamo messo tanto, però adesso la parola passa a voi che siete i lettori. Speriamo di riuscire a vederci ben presto, di persona, di sicurezza. Speriamo di riuscire a vederci ben presto,